5 dal vertice. Ora tenuto da solo dall'Inter a punteggio completo l'approccio morbido della sua squadra. Ma applaude la reazione innescata in particolare dai sostituti. Finalmente, acqua sul fuoco nel momento della tensione dopo l'uscita di Quarazzchelia. Che ha reagito in modo negativo alla scelta tecnica. Rudy Garcia commenta sorteggio 22 che fa slittare Napoli a Dalla Vetta. Ora tenuto da solo dall'Inter con punteggio completo dopo successo nel derby. Il tecnico napoletano ha condannato la sua squadra. M ha applaudito in particolare dai sostituti. Finalmente. Acqua sul fuoco nel momento della tensione. Che ha reagito male alla scelta tecnica. Bella reazione. Ma un cattivo approccio la reazione era lì. Abbiamo mostrato carattere. Ma dobbiamo farlo dal fischio iniziale del primo tempo. Ha commentato parlando con i microfoni di Dazon. Non eravamo immediatamente protagonisti e l'abbiamo pagato concedendo due gol. Anche se abbiamo avuto due episodi contro di noi. Non è per questo che abbiamo perso due punti. La lezione è giocare dal primo secondo. I giochi precampioni sono sempre difficili da gestire. Perché i giocatori non sono al 100 con la. Testa. Nella fase difensiva dobbiamo imporre di più la nostra fisicità. Disegna dopo essere stato in uno svantaggio per 20 può sembrare un buon risultato. Ma in realtà abbiamo perso due punti. In futuro. Già in Bologna. Dobbiamo essere protagonisti dall'inizio. Cacca vai cacqua Ratzkelia durante la partita tra Genova e Napoli. Serie A 202.324 credit foto applausi per la panchina. Ha cambiato il gioco cambierei qualcosa nella formazione iniziale con il senno di poi? L'obiettivo era lasciare che Ramani giocasse. Ma c'era un grande rischio di perderlo. Quindi abbiamo deciso di non suonarlo. Ma sono soddisfatto per Juan Jesus e Hostigar. Potrei non changetri su quattro difensori rispetto all'ultima partita. Sono contento dell'atteggiamento difensivo del dipartimento. Non cambierei nulla perché devo anche lavorare sull'approccio di alcuni dei miei giocatori. Vedi Elmas. Questa volta lo sono felice perché i cambiamenti hanno funzionato. Sindat Raspadori e Politano hanno segnato di conseguenza. Cajuste è entrata nel gioco alla grande. Ci ha dato solidità e fisicità e ha anche fatto il passaggio per Raspodori. Sono lieto per lui. Se lo merita. E lo merita per ora è il protagonista di questo Napoli. Nessun attrito con Quarazkelia il cambio di Kevara? I messaggi sono per coloro che entrano. Non per coloro che escono. Zerbin meritava di avere un minuto. Perché funziona bene dall'inizio del ritiro. Volevo dimostrarlo. Chi si allena bene. Può avere spazio anche se ha grandi giocatori di fronte. Come Kevara. In effetti.